E adesso cosa succede? Cosa farà Enel? La domanda, anche se non fatta esplicitamente, corre nelle menti di tanti civittavecchiesi che si sono scoperti improvvisamente orfani di una mamma che hanno avuto vicina per oltre 70 anni e con la quale, come accade in tutte le famiglie, il rapporto non è sempre stato solamente fatto di carezze, ma anche di momenti di contrasto, se non di scontro. Ieri l'azienda energetica ha tenuto a sottolineare che il programma di decarbonizzazione avviato in Italia prevede lo sviluppo di energie rinnovabili in tutto il territorio italiano e la chiusura degli impianti a carbone entro il 2025 in coerenza con le tempistiche previste dal Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima, per sostituirli con nuovi poli energetici costituiti da impianti a fonti rinnovabili, impianti di accumulo e impianti a gas, questi ultimi nella misura strettamente necessaria per mantenere in sicurezza il sistema elettrico italiano. Nella nota Enel ha voluto ribadire che la quantità di capacità flessibile necessaria per assicurare la sicurezza del sistema elettrico nazionale viene definita da terna ed approvvigionata attraverso le aste del mercato della capacità, lo strumento previsto dal suddetto Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per garantire il raggiungimento di questi obiettivi. Ha poi specificato che per quanto riguarda la centrale di Civitavecchia la scelta è derivata dall'ascolto delle necessità espresse dal territorio rispetto ad uno sviluppo del sito in altre direzioni e considerando le effettive esigenze di capacità flessibile del sistema elettrico nella macroarea. Per lo sviluppo del sito, conclude la nota di Enel, proseguirà quindi un percorso condiviso con gli stakeholder locali in ottica di sviluppo sostenibile del territorio. Decodificando Enel appare pronta ad ascoltare quelle che potranno essere le proposte per un diverso utilizzo dell'area che ospita attualmente la centrale a carbone e che peraltro, per inciso, potrebbe continuare anche a funzionare per un breve periodo di tempo successivo al 2025, soprattutto se la situazione internazionale continuerà purtroppo ad evolvere come nelle ultime settimane. Come già avvenuto a Montalto di Castro, quindi, l'azienda potrebbe accogliere nel suo sito iniziative che sono in linea con la cosiddetta transizione energetica e continuare comunque a sviluppare il fotovoltaico e l'attività di accumulo dell'energia. Insomma, c'è un futuro tutto da scrivere e anche in fretta ed Enel fortunatamente sembra non voler solamente svolgere il ruolo di attore non protagonista.